Antonio Conte, il CT della Nazionale, è stato ospite a Sanremo 2015, condotto da Carlo Conti, affiancato da Arisa ed Emma. Il CT della Nazionale ha canticchiato Uomini Soli dei Pù e poi ha smentito le voci su un suo addio alla panchina azzurra. Che cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, cliccate il piace al video, condividete il video e se va, iscrivetevi al canale. Grazie.